Scontri sempre più frequenti e continue scintille tra l'amministrazione comunale e l'ASP che da mesi ormai sembrano proprio in rotta di collisione. I contagi da covid che non accennano a diminuire la zona rossa hanno rotto tutti gli schemi e ormai ognuno cerca di rimpallare le responsabilità sull'altro. Da giorni va avanti il muro contro muro nonostante l'intervento della prefettura di Caltanissetta. Lo scontro ruota intorno alla gestione della situazione nelle scuole della città. Secondo il sindaco Lucio Greco e la sua amministrazione toccherebbe ad ASP l'ultima parola sull'eventuale chiusura in base alla valutazione dei dati. Ad oggi i manager hanno sempre escluso che i numeri siano da stop alle lezioni in presenza. Ieri però in un'intervista andata in onda nella trasmissione, lo dico alla radio, il manager Alessandro Caltagirone ha cambiato rotta spiegando che il sindaco può anche decidere di fermare l'attività scolastica in presenza prevedendo la DAD come chiesto sia dalle famiglie che dagli studenti oltre che da buona parte della politica locale. Per il vice sindaco Terenziano Di Stefano le ultime posizioni di Caltagirone creano un chiaro conflitto anche con la normativa regionale. L'ordinanza deve essere emessa dal sindaco ma questo non può essere fatto se non c'è un parere da parte dell'ASP, da parte di quella autorità sanitaria che controlla, gestisce e fa il monitoraggio di tutti i dati che quotidianamente ovviamente i laboratori portano avanti. Il rapporto di fiducia tra il municipio e l'ASP sembra ormai vacillare e Di Stefano mette anche in dubbio le scelte manageriali di Caltagirone. Le dichiarazioni che noi abbiamo sentito ieri da parte del manager dell'ASP, l'ingegnere Caltagirone, non sono assolutamente in linea con quelle che sono non solo i decreti, l'ultimo tra l'altro emesso il 21 aprile 2021, ma anche riportato dalla circolare interassessoriale firmato non solo dalla Galla ma anche dall'assessorato regionale alla sanità che di fatto è il datore di lavoro dell'ingegnere Caltagirone, dove in maniera chiara e precisa dichiara che i sindaci non possono assolutamente emettere ordinanza se non c'è un parere da parte di questa autorità, ovvero dell'ASP. Ad oggi abbiamo avuto solo una comunicazione da parte dell'ASP, nonostante il sindaco abbia più volte chiesto questo parere, hanno trasmesso soltanto dei dati generali che lo fanno quotidianamente e in più c'è una nota dove dicono che le scuole sono sicure. Facciamo chiarezza anche su questo fatto, il parere non è vincolante, è obbligatorio ma non è vincolante, il che significa che il sindaco avrebbe potuto chiudere le scuole anche con un parere negativo dell'ASP, qualora però il parere ci fosse. Allora io sulla questione di vincolante o non vincolante non lo leggo da nessuna parte per essere sincero, l'unica cosa che leggo e per me vale quello è che nel decreto e nell'ordinanza e nella circolare dell'assessorato regionale della Galla viene riportato che bisogna, quindi è obbligatorio il parere dell'ASP e lo stesso parere deve essere allegato all'ordinanza che poi il sindaco andrà ad emettere. Ad oggi non c'è, ripeto, un parere in tal senso. Voi l'avete richiesto il parere all'ASP? Assolutamente sì, il sindaco l'ha chiesto più volte, non solo per iscritto e ci sono le comunicazioni che anche qualche giorno fa lo stesso primo cittadino ha fatto vedere ma nelle decine di riunioni che sono state fatte con il suo eccellenza il prefetto, con l'ASP stesso dove l'ingegner Caltagirone non è stato mai presente, assieme a tutti i sindacati ed erano anche presenti le scuole rappresentate dal provveditorato all'istruzione della provincia di Caltanissetta e sono stati sempre chiesti e ad oggi questo parere che possa portare ad una sospensione della didattica in presenza.